15 operai su 23 senza un regolare contratto di assunzione, quanto ha scoperto la squadra Interforze all'interno di una confezione gestita da cinesi in via Strozzi. Il controllo è scattato ieri, ha portato alla contestazione di 22.500 euro di sanzioni amministrative. L'attività è stata sospesa per l'uso di manodopera nero. I 54 macchinari tessili presenti all'interno sono stati sequestrati. Il titolare assente al momento del controllo è stato denunciato.